Chi l'avrebbe mai detto che le offerte di primavera mi avrebbero apportato la mia nuova televisione? Sì, ho preso un 75 pollici. È stato veramente difficile trasportarlo fino a casa e non avete idea di quanto sia stato stancante poterlo posizionare su questo mobile. Però, a meno di 700 euro, non me lo potevo far suggire. Oggi parliamo infatti del nuovo iSense, nuovo per mondo di dire, dato che si tratta di un modello del 2023, 75E 63KT. Come vi dicevo, fa parte della line-up del 2023. Trattasi di un modello 4K HDR con risoluzione 3840x2160 pixel, dotato di tecnologia Quantum Dot Color con l'obiettivo di aumentare la gamma cromatica e tecnologia chiamata Ultra Local Dimming con l'obiettivo di aumentare il contrasto. È chiaro, non è a livello di un OLED, però la sua figura la fa, anche perché il prezzo è nettamente più basso. Provate a cercare un 75 pollici OLED, io l'ho fatto, è una follia. Il pannello è potenziato a 60Hz e ha in sé anche una tecnologia che consente di accelerare quelli che sono video o giochi, con l'obiettivo di renderlo ancora più fluido. Diciamo che la prima impressione è un po' da nausea, però dopo un po' ti ci abitui, anzi, tornare indietro è molto difficile. Anche per quel che riguarda la connettività, non lascia minimamente a desiderare. Abbiamo sia connessione Ethernet, sia connessione Wi-Fi. E connetto da Wi-Fi è semplicissimo. Basta semplicemente utilizzare l'applicazione o inquadrare un codice QR all'accensione della televisione stessa. Inoltre ci sono varie tipologie di connessione, come 3 HDMI e diverse presi USB. Detto ciò, è ora che vi racconti la mia e vi dica cosa ne penso di questa televisore. Partiamo innanzitutto dal design. Design che è abbastanza minimalista, con cornici molto sottili, non sottilissime, e questo design minimalista però lo rende anche un pochino anonimo, perché obiettivamente non si distingue minimamente dalla concorrenza e di conseguenza avete un televisore che in casa non risalta tantissimo per quel che sono le sue forme. Chiaramente con questo tipo di formato, ovvero un 75 pollici, il fatto che le cornici siano così tanto sottili, quindi praticamente neanche mezzo dito, fa sì che tu possa goderti appieno quel che l'esperienza sia videoludica, nel caso in cui utilizzi questo televisore per poter giocare, sia nel momento in cui vedi film su Netflix, Disney Plus e cose di questo tipo. A livello di costruzione devo dire che è abbastanza solida, sebbene si tratta comunque di plastica. Una plastica comunque molto rigida. La rifinitura è robusta e personalmente anche le parti posteriori mi sono sembrate molto dure al tatto. A livello invece di supporto abbiamo due piedistalli che possono essere installati sia nelle parti centrali più strette, qualora non abbiate un mobile abbastanza grande, sia eventualmente più esternamente nel caso in cui abbiate un mobile come il mio, un pochino più largo. È chiaro che più lateralmente le installate è meglio a livello di stabilità. In ogni caso, qualora tu fossi amante degli attacchi a parete, è presente anche l'attacco VESA con lo standard universale, pertanto si può tranquillamente attaccare la parete. Il design in ogni caso viene conservato anche nella parte di connettività, sia per quel che riguarda l'alimentazione nella parte a destra della televisione, sia per quel che riguarda la connettività tramite porte HDMI e Ethernet USB localizzate nella parte a sinistra del televisore. In entrambi i casi sono poste lateralmente ma nel lato posteriore, di modo da essere completamente invisibili all'occhio. Questo è molto importante soprattutto se vuoi conservare il design all'interno della tua casa. Inutile dirvi che appena ho acquistato questo televisore, questo è stato il film che ho visto immediatamente, anche per rendermi conto un attimo della qualità dello schermo che avevo davanti. E devo dire che sinceramente è stata una bella emozione. Un Ultra HD 4K con questo tipo di risoluzione si comporta assolutamente bene. È chiaro, non è un OLED e su questo siamo assolutamente d'accordo, però è anche vero che a livello di parità di risoluzione e a livello di parità di dimensione dello schermo era impensabile acquistare un OLED in questo momento perché saliamo ben sopra i 4.000 euro per questo formato di schermo. Mentre nel caso di questo tipo di televisore abbiamo comunque un formato accettabile sebbene comunque i neri siano tendenti leggermente al grigio. In ogni caso la mia scelta di vedere questo film è dettata dal fatto che mi potevo rendere conto immediatamente se l'accelerazione che era stata promessa effettivamente era stata rispettata. Vale a dire nelle scene di movimento come appunto le scene di combattimento vi era un'accelerazione tale che sembrava di essere effettivamente in movimento e questa cosa è stata ampiamente rispettata. Inoltre indipendentemente dal film che state guardando è presente anche una tecnologia che va a fare un upscale di quel che è la risoluzione del video che state vedendo. Quindi ad esempio anche se state vedendo un video in Full HD c'è un tipo di tecnologia che va a modificare quelli che sono i pixel del video, ve la spiego in modo abbastanza banale facendo in modo che la risoluzione potrebbe sembrare o comunque risultare più elevata. In realtà chiaramente resta pur sempre un Full HD però c'è questo tipo di lavoro a livello software che effettivamente funziona. L'HDR inoltre e l'HDR 10 si comportano benissimo nel far risaltare tutti i colori rendendoli vividi e addirittura nel momento in cui dovessi spegnere la luce e poi faremo questo tipo di test tendono ad illuminare praticamente tutta la stanza. Inoltre la tecnologia Ultra Local Dimming ha proprio l'obiettivo di andare a superare questa differenza con l'OLED, vale a dire che nelle zone un pochino più scure tende a scurire quelli che sono i LED cercando però di mantenere comunque nelle zone tra virgolette più chiare come in questo caso una luminosità comunque più elevata. Pertanto anche in questo caso è una tecnologia ben sfruttata e questo diventa particolarmente utile ad esempio nelle scene dei film d'azione dove si vanno a combinare queste tette tecnologie per poter avere poi chiaramente delle immagini di qualità. PUNITI Passando invece alla parte puramente audio ho probabilmente la pecca principale ma come la maggior parte dei televisori di fatto come vedete qui io ho un Dolby 5.1 che ho collegato direttamente alla porta jack è un Dolby abbastanza vecchio in realtà andrebbe comprato una soundbar ma in ogni caso per qualche illuso che ne faccio in questo momento può andar bene così questo semplicemente perché i canali stereo presenti quindi sia al lato sinistro che al lato destro funzionano bene, sono abbastanza potenti però comunque a livello puramente qualitativo specie se vuoi vedere scene da cinema vuoi un audio anche di qualità. In ogni caso è supportato il Dolby Atmos anche nel momento in cui andate a collegare dispositivi esterni proprio per creare quel senso appunto di cinema quindi tridimensionale e soprattutto nella schermata delle impostazioni potreste andare ad ottimizzare l'audio a seconda della stanza in cui vi trovate. Pertanto se la qualità video era eccelsa comunque eccellente considerando la fascia di prezzo per la qualità audio devo dare un voto buono certamente non eccellente. Personalmente ho collegato direttamente il Dolby Atmos ed è una spesa che vi consiglio di fare anche perché ci sono molte soundbar di ottima qualità che costano relativamente poco. Ma una Smart TV non si giudica solo e unicamente per video e audio ma si giudica anche e soprattutto per l'interfaccia utente. Difatti all'interno di questo Hisense troviamo l'interfaccia utente nominata Vida con due A finali. E devo dire che una buona interfaccia utente anche a livello puramente di utilizzo è semplice da utilizzare non c'è una curva di apprendimento particolarmente importante e soprattutto la cosa che mi interessava di più perché le prime Smart TV ho avuto modo di vederle laggavano, non lagga. La potete utilizzare tranquillamente sia utilizzando il telecomando direttamente incluso in confezione che ha diversi tasti già preconfigurati passando da Disney Pass, YouTube, Prime Video e cose di questo tipo sia eventualmente tramite l'applicazione che si può sostituire al telecomando e si collega in maniera abbastanza semplice tramite un codice monouso. Per quel che riguarda Vida supporta anche eventualmente qualora lo vogliate Alexa e la configurazione è molto semplice. Inoltre grazie a Vida è possibile utilizzare direttamente AirPlay e di conseguenza proiettare eventualmente sia dal vostro computer Windows sia da Mac ma chiaramente anche da iPhone ed Android direttamente la schermata che state vedendo sul vostro smartphone. E di conseguenza la proiezione verso il televisore diventa davvero facile ed immediata. Pertanto qualora non vi basti la semplice televisione avete comunque tre possibilità di collegare tre HDMI completamente diversi. Avete la possibilità di fare appunto AirPlay o la condivisione come ad esempio succede sui Chromecast e di conseguenza la condivisione anche per quel che riguarda la rete locale. Di fatto in questo momento vi rendete conto che sei connesso direttamente al mio Facebox. In ogni caso in tutte queste sessioni sono presenti delle guide quindi eventualmente dovreste avere dei problemi o delle domande trovate direttamente qui le risposte. Come vedete la guida è praticamente infinita. In ogni caso è bene sottolineare che sebbene sia un software particolarmente avanzato avendo avuto la possibilità di provare la Smart TV di Samsung o una semplicissima Android TV effettivamente non siamo a quel tipo di livello non siamo a quel tipo di semplicità di utilizzo e soprattutto di funzionalità. In ogni caso di funzionare funziona assolutamente bene. Per quel che riguarda la connettività questo iSense è assolutamente completo. Oltre le tre porte HDMI e le multiple USB che vi ho già mostrato e di cui vi ho già parlato è presente anche il Bluetooth quindi eventualmente voleste collegare la vostra sound direttamente tramite Bluetooth lo potreste fare o eventualmente se avesse un sistema di altoparlanti che funziona tramite Bluetooth potreste tranquillamente collegarlo direttamente a questa Smart TV. E dopo aver fatto questa breve panoramica su questa iSense 75E 63KT direi che possiamo arrivare a conclusioni prezzo e soprattutto pre-contro vale a dire le cose che è opportuno che sappiate che sono obiettivamente dei pro e alcune cose che obiettivamente sono dei contro e sono migliorabili. Innanzitutto devo dire che sono contento dell'acquisto che ho fatto. Personalmente mi ero molto fossilizzato sulla questione OLED anche perché a voler essere obiettivi quando vai nei centri commerciali e vede una TV OLED ti fa proprio quel tipo di effetto wow effetto wow che hai anche in questo caso chiaramente in una versione un po' minore perché non si tratta di un OLED si tratta pur sempre di un QLED ma visto il rapporto qualità prezzo e visto che presumibilmente e adesso devo informare la mia compagna questa televisione finirà comunque nel mio ufficio quando mi trasferirò direi che a me va benissimo così poi quando si crea diciamo la sala cinema a quel punto potrò anche valutare una questione OLED e magari da qui a qualche anno i prezzi saranno calati perché ad oggi non si possono toccare. Se arriviamo poi alla questione prezzo sinceramente non penso che sarei riuscito a trovare una smart tv di questo tipo quindi 4k HDR a 60 Hz a quel tipo di prezzo difatti quando sono capitate le offerte di primavera ed eravamo direttamente in live a vederle insieme ho detto ok va bene questa me la prendo non ce l'ho neanche pensato un attimo anche perché 684 euro per un 75 pollici 4k HDR non lo si trova facilmente di fatti ad oggi il prezzo mentre sto registrando questa recensione è salito di nuovo a 730 740 euro in ogni caso vi lascio il link in descrizione così vi rimando direttamente all'acquisto qualora vogliate vedere il prezzo se riuscite a trovarlo intorno ai 700 euro secondo me è già un prezzo più accettabile gli 849 euro che erano di listino un po' ti fanno storcere il naso a quel punto con se non sbaglio 50-100 euro in più c'era la versione da 85 pollici tanto che devi fare le cose lì in grande falla sempre più grande direi io ma veniamo ai pro e i contro e so che questa è la sezione diciamo più vista dei miei video a livello puramente di pro l'immagine le immagini sono nitide e ben dettagliate è un piacere poter vedere questo tipo di schermo non ti affatica gli occhi e anche giocare dato che ho ricevuto in prova un Xbox e l'ho provata è veramente piacevole ci sono poi tecnologie avanzate che funzionano bene molte volte si intende ammettere fin troppa tecnologia che invece non funziona così tanto bene in questo caso invece tutte le tecnologie inserite quindi il quantum dot color l'ultra local dimming e l'accelerazione di quelli che sono i video in movimento rendono l'esperienza finalmente fruibile è chiaro non consentono di arrivare completamente alle tv top delle OLED ma in ogni caso migliorano bene quel che è la visione dello schermo in seconda analisi l'audio che supporta il Dolby Atmos che funziona in maniera abbastanza decente lo metto tra i pro ma in realtà lo metto anche tra i contro perché comunque è la cosa che funziona un pochino peggio rispetto a tutto il resto però rispetto a tanti altri televisori anche di marche più blasonate effettivamente si sentono e si sentono bene è chiaro vuoi il top quality prendi una sound prendi un digital surround e cose di questo tipo non affidarti sull'altoparlante dei televisori quarto pro ci metto la connettività sia per semplicità sia perché ci sono tante porte quindi abbiamo tre hdmi abbiamo le porte usb abbiamo il bluetooth abbiamo il cavo ethernet abbiamo le applicazioni che si collegano facilmente questi sono tutti pro perché connettersi ad una smart tv dovrebbe essere immediato altrimenti si perde lo smart e ovviamente tra i pro ci metto il prezzo anche perché al prezzo a cui l'ho acquistato io è difficile trovare di meglio semplicemente per quello arriviamo invece ai contro tra i contro ci metto la frequenza di aggiornamento a 60 hertz che si va bene nel momento in cui andrete a vedere video film serie su netflix o ad esempio su youtube ma nel momento in cui giocate è un po' una penalizzazione perché specie se avete console come l'xbox che io ho qui dietro che va fino a 120 hertz e lui si ferma a 60 hertz non va benissimo vale a dire che personalmente sul computer dove faccio anche gaming dove ci monto i miei video si nota una fluidità nettamente più elevata è chiaro giocare a 60 fps va comunque bene però i 120 fps sono un altro livello un altro aspetto proprio a livello di fluidità pertanto sì questa è una pecca se dovete giocare sappiate che questo non è proprio un monitor da gaming dovreste puntare almeno a qualcuno che ha i 120 hertz questo chiaramente è verso i gamer più esigenti tutti gli altri si troveranno benissimo quindi non vi allarmate tra il secondo il sistema operativo che sì funziona benissimo quindi ci tengo a ribadirlo questo tipo di aspetto però non è a livello delle smart tv più costose ma è ovvio anche da questo punto di vista altrimenti non costerebbero di più terzo conto come vi dicevo ci metto l'audio perché sebbene io l'abbia utilizzato pochissimo quelle poche volte che l'ho testato per poter fare questo tipo di recensione mi sono reso conto che non è un audio di qualità che funziona bene ma non è un audio di qualità e quarto conto ci metto il design che sì belle le conici super sottili ma è praticamente anonimo cioè vale a dire che se qui a posto di asens ci mettevi samsung o sony non me ne sarei neanche accorto e io penso che la televisione possa anche diventare un elemento di design quindi elegante minimalista ma anonima pertanto io la ritengo assolutamente un'ottima scelta specie se volete una tv di grande formato senza dovervi svenare è assolutamente un investimento solido sicuramente per l'80% anzi direi il 90% degli ambienti domestici è chiaro che se la dovete utilizzare a modi cinema non è la tv che fa per voi ma per l'uso comune per quelle poche ore di tempo libero che abbiamo durante il giorno questo tipo di smart tv ovvero l'iSEN 75E 63KT va assolutamente bene pertanto qualora voleste un consiglio personalmente vi troverete assolutamente bene detto ciò io vi ringrazio di avermi seguito fino a qui vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto se avete domande su questa smart tv vi aspetto nella sessione commenti vi rispondo direttamente lì e se vi interessano altri video in cui parliamo di tecnologia e recensione di dispositivi tecnologici vi invito ad iscrivervi al canale dato che ogni settimana ci sono nuovi video e io adesso mi metto a giocare alla prossima ciao ciao chanam